Buongiorno a tutti, oggi domenica 15 gennaio ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni capitolo 1 versetti dal 29 al 34. In quel tempo Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui disse ecco l'agnello di Dio colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me. Io non lo conoscevo ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo ho contemplato lo spirito di scendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo spirito è lui che battezza nello spirito santo e io ho visto e ho testimoniato che questi è il figlio di Dio. Il Vangelo di oggi ci mostra Giovanni il Battista che mostra chi è Gesù. In alcune opere artistiche di famosi pittori per esempio Giovanni Battista di Tiziano che si trova nelle gallerie dell'Accademia di Venezia troviamo proprio Giovanni Battista che sta come indicando con l'indice rivolto verso l'alto e ai suoi piedi c'è un agnellino. Eh sì Battista è proprio il profeta che indica l'esistenza di Gesù, la sua missione, la sua chiamata, la realtà del Salvatore, del Signore. Si tratta proprio di un'interpretazione di questa definizione di Giovanni che presenta Gesù come agnello di Dio. Ma cosa cosa significa questo appellativo agnello di Dio? Si tratta di un titolo messianico antichissimo probabilmente dato a Gesù dai primissimi credenti di matrice ebraica e che ha a che fare con l'opera della salvezza che Dio ha desiderato di compiere lungo il corso della storia dell'umanità e del popolo ebraico. Così oggi contempliamo in questo testo la figura di Giovanni profeta precursore del Messia che in linea con tutta la profezia biblica sa vedere oltre quello che vede la gente. Qua ci accorgiamo sente dentro di sé che il Messia non è quel re che governa il mondo con la forza come un po' tutti se l'aspettavano ma è colui che porta la pace nei cuori con l'amitezza di un agnellino. Ecco le parole pronunciate da Giovanni non evocano la promessa messianica legata al re Davide, non celebrano le imprese umane di un re ma evocano proprio quest'opera della salvezza che riguarda tutto il popolo di Dio e che sperimenta nella notte della Pasqua, della prima Pasqua, quando il sangue dell'agnello pasquale diventa segno della liberazione dallo sterminio e dalla morte. Ecco quindi questa evocazione viene ripresa della storia, della memoria della salvezza. Si tratta di una salvezza che è già avvenuta nel passato quindi in questa definizione agnello di Dio lo troviamo ben identificato nel passato ma che in realtà Giovanni già vede che si compierà anche nel futuro perché nella persona di Gesù e nel dono della sua vita, del suo corpo, del suo sangue per tutti sulla croce si compirà questa missione, questa identità salvifica del Signore Gesù. La testimonianza di Giovanni sul Messia mira quindi a far riconoscere in Gesù il Redentore, il Liberatore, potente ma non come ce l'aspettiamo noi o come se l'aspettava il popolo al tempo ma con una modalità diversa, quella della tenerezza, di un agnellino, della dolcezza. E Giovanni affermando che Gesù è l'agnello di Dio sa guardare oltre la realtà, oltre le aspettative. Capisce che il Messia si farà riconoscere non tanto dalla potenza dei prodigi ma dal fatto che offrendo se stesso perdonerà i peccati di tutti. Il perdono di Gesù ci rende capaci di riconoscere nella verità il passato e di scorgere il bene, il bello nella visione futura come qui fa Giovanni. E come il profeta Giovanni ogni evangelizzatore, ogni testimone, anche ciascuno di noi, testimonia la salvezza di Dio nel mondo perché il Signore stesso mette nel suo cuore questa visione spirituale, non carnale. Spirituale perché non è legata agli occhi fisici ma è legata proprio a questa capacità di vedere oltre che è radicata nella profondità del cuore, legata cioè alla relazione intima con Dio. Vedere Gesù come l'agnello di Dio è il senso della profezia perché la profezia non è un pronostico, non è un vaticinio ma è un riconoscimento della realtà che nel profondo si incontra con la visione dello spirito. Impariamo allora oggi che essere evangelizzatori, annunciatori della gioia del redentore nella dolcezza, nella tenerezza di Gesù che ha redento il peccato del mondo vuol dire essere sempre preceduti perché chi evangelizza, chi annuncia non fa altro che riconoscere ciò che vive negli incontri che fa, nelle azioni che vede compiere quella tenerezza di Gesù, quella luce nascosta nell'intima coscienza di tutti gli uomini e le donne che abitano su questa terra. In questa domenica allora con tanta gioia e riconoscenza anche nel cuore ricordiamoci che il Signore ci ha salvato e riconosciamoci come popolo salvato dalla morte, redento dal peccato e ringraziamo insieme Dio perché possiamo vedere con gli occhi dello spirito la nostra vita, la nostra storia, la vita che ci precede e anche ciò che abbiamo davanti. Quando noi non lo conoscevamo, Giovanni è interessante che in questo testo Giovanni lo ripete due volte, io non lo conoscevo, io non lo conoscevo. Ecco mentre noi non lo conoscevamo lo spirito lavorava, quindi saper vedere nel passato questa opera dello spirito ci aiuta a vedere il futuro nella speranza e oggi anche noi possiamo vedere nella luce il nostro passato, nella luce di Dio, dello spirito, riconoscendo che siamo stati sempre preceduti da Dio anche quando non abbiamo avuto coscienza e ringraziamo anche il Signore perché nonostante tutto possiamo intravedere nella fede un futuro di pace anche per questa umanità come nella bellezza, nella bellezza di Dio che noi oggi riconosciamo, celebriamo insieme, la bellezza che noi il popolo di Dio formiamo quando ci riuniamo, quando ci incontriamo per celebrare il Signore e questa bellezza di Dio oggi conquisti il cuore di tutti. Ci doni la visione spirituale di Giovanni Battista per vedere come Gesù ci ha amati e ci aiuta ogni giorno a vivere come veri battezzati nello Spirito Santo, donandoci la gioia di essere in Lui, con Lui e per Lui figli dell'unico nostro Padre che è Dio creatore e onnipotente. Buona domenica!